Mi giro, faccio sì, e c'era Vincent Cassart che mi fa Merci E io Cos'altro posso passarti in tutto l'hotel in cui ci troviamo? E siamo live E siamo tornati Siamo tornati Siamo tornati Siamo tornati solo per una ragione Perché oggi c'è qui con noi Ludovica Bizzaglia, signore e signori Buongiorno, buonasera Che non si sa perché ha scelto di venire a questo podcast Una ragione c'è ma se la dico secondo me poi mi blocchi la puntata Ma stavi dicendo una cosa interessante Cioè di quando Vincent Cassart ti ha portato una forchetta Eh sì, eravamo a Venezia al Festival del Cinema Il primo anno che sono andata E ero nella hall dove c'è la colazione Bellissima, io ovviamente avevo fatto serata Quindi avevo dormito mezz'ora Ti lascio immaginare le condizioni A un certo punto sto facendo colazione E sento scusi mi può passare quelle uova lì? Io sai quando la mattina dici Ma ma che palle Ma perché la gente mi deve parlare alle 8 di mattina? Mi giro, faccio sì E c'era Vincent Cassart E mi fa Merci E io Cos'altro posso passarti In tutto l'hotel in cui ci troviamo? Lo ricordo con molto amore come momento Un saluto a Vincent Cassart Ciao Vincent Pizzaglia Quindi vedi che poi le cose Il karma girano, ritornano L'unica religione in cui credo Il karma È una bella religione È proprio una religione Anche Zino In realtà Infatti Zino Ha un sacco di karma positivo In accumulo Veramente Penso che non lo so neanche Ma ne approfitto per dirlo Visto che oggi facciamo una puntata speciale Sulla salute mentale del cinema In realtà tutto questo podcast Nasce perché Zino è il nostro psicoterapeuta E io e Bailati eravamo In realtà obbligati a beccare una volta a settimana Per decisione di un tribunale Questo è un bel soggetto comunque Ti piace? All'inizio di un film bellissimo Fazzesco comunque È vero Per una nuova formula Una psicoterapeuta Che decide Di impattare i suoi Pazienti Con un podcast È carina come idea Zino dovresti presentarla come tesi Per il dottorato In qualche università americana E ora potrebbe essere interessante Il podcast come strumento Come strumento sociale Come strumento creativo Come strumento anche di rielaborazione Dei temi Nel dialogo C'è tutta quella dinamica Della collettività Soprattutto negli atteggiamenti Più statunitensi Del fare sedute collettive Ma che figata Mi avete risparmiato Cinque anni di dottorato In nove birre Tre minuti Poi puoi usare Tutto quello che hai già fatto Eh sì Cioè puoi usare Come tecnica tua personale Anche come database Io pensavo che stessi per dire Che in realtà Noi siamo le proiezioni di Zino Perché in realtà La coscienza di Zino Era un atto schizofrenico Di Zino E quindi tutto il podcast di Zino Si regge sul fatto Che lui crea personaggi immaginari Scena finale Io con quattro microfoni Che parlo da solo Blot twist del film Che tu pensi sia un film Sono psicologo Che ha chiamato vari pazienti Per fare in realtà La fine scopri che lo psicologo Soffriva di schizofrenia E che sono tutti dialoghi Interiori suoi Esatto Che poi è tipico È tipico Degli psicologi Avere effettivamente Dei problemi seri Cioè a qualsiasi regista Ci sia Se non lo so Salutare la mia psicoterapeuta Non mi sbilanci su questa cosa Un saluto Un saluto Importante Ha problemi ben gestiti Tanto da poter essere Anche io saluto la mia Con grande apprezzo Salutiamo tutti Grazie È il mio primo ringraziamento Nella tesi di laurea La mia psicoterapeuta Certo Fondamentale A me non mi ha ringraziato Nella tesi di laurea Non lo ricordo ancora Ci sei Ci sei Sì ma sono in un gruppo Di persone Che non sono citato Questa però è mania Di protagonismo Infatti Come al solito Poi oggi Guarda oggi ha pure Una camicia È abbastanza elegante Rispetto al solito Beh perché c'era L'ospite più importante Dell'anno Ovvero Ludovica Bizzaglia Signore e signori Poi ho finito I vestiti puliti Informali Ah potremmo raccontare Anche la storia Ci arriviamo dopo Era pensato più Per la seconda parte Della puntata Ok ok Ho capito Comunque Giusto prenderlo Anche in maniera divertente Perché secondo me Giocheremo un po' Sui vari livelli Di questo tema Però oggi abbiamo scelto Di fare una puntata Proposta da Ludovica Molto importante Alla quale io tengo molto Se hai il tuo telefono K mi incazzo tantissimo No non è neanche il mio Leva il volume Insulta chiunque L'abbia chiamato Rispondi Passami il telefono Non sto scherzando Ti giuro che il mio è spento È il mio Sì Brava Ludovica No Questo è come avere il teatro Al teatro C'è il podcast di Artesetti Ma lo stesso valore Nel teatro e del cinema È la scala del podcast Il karma Per la roba e le mutande Te lo giuro Te lo giuro che io l'ho spento Avete fantasi Era il mio manager Che ti chiamava Per la roba e le mutande Sto per farti una diffida Come ti sei permessa Va bene parliamo dopo Comunque sì C'è molto bello questo tema Perché uno ci permetterà Di parlare di una cosa Che anche a me Sta molto a cuore Penso a tutti noi Penso che la nostra generazione Finalmente abbia preso in mano Questo argomento In un modo Così tanto demonizzato Ma non ancora del tutto Non ancora del tutto Però è anche un bel modo E quindi in qualche modo Due piccioni con una fava Per parlare un po' Della storia del cinema Perché ci sono esempi Di tanti tempi storici del cinema In cui la salute mentale È anche cambiata Proprio come è cambiata Sono cambiate le generazioni Esatto Perché il cinema è uno specchio Della realtà Quindi come cambia la rappresentazione Cambia in realtà poi Quello che viene rappresentato Esatto E quindi come è cambiato Il modo di raccontare La salute mentale nel cinema Molto figa questa cosa Sì ma anche Anche per esempio Ritrovarsi nel periodo storico In cui ci si trova No? E quindi Vai al cinema Sperando di rimanere Influenzato da quello che vedi Io Il discorso che faccio È sempre Quando magari ero io adolescente Che non c'era ancora Questa libertà Di pensiero e di parola Sull'argomento E quante volte Avrei voluto magari Identificarmi In un personaggio In una storia In una persona Che mi avrebbe fatto pensare Non sono sola Succede anche a lui E il cinema in questo Ha un enorme potere No? Totale Certo Come vale per qualsiasi altro Aneddoto Emozione della vita Vale anche su questo argomento qua E il fatto che non ci sia stato Fino a un certo punto È sicuramente un deficit Probabilmente Un tabù È sempre stato inteso Come tabù Anche perché Almeno sai anche Con i nostri coetani Io È un argomento È un argomento Che tiro sempre fuori Nelle discussioni Perché mi interessa molto E quanto ancora Ci sono persone che dicono Vabbè ma Dallo psicologo ci vai Se sei matto No? Oppure vabbè ma parlo con un amico Mi bevo una birra È la stessa cosa È perché ancora Identificarsi in storie Anche a lieto fine Perché sennò c'è sempre Anche secondo me Il pensiero distorto Del Allora va tutto una merda Va tutto male Invece La salute mentale Si cura No? Cioè ti fa male Un piede Vai dall'ortopedico Hai problemi mentali O problemi psicologici Ti affidi a dei professionisti Ma certo Ma infatti C'è la cosa veramente grave Fra mille virgolette Questa visione esclusivamente negativa Che si ha del processo Perché poi esiste una cosa Un filone di pensiero Molto recente a psicologia Che è la psicologia positiva Che è fatta per le persone Che non hanno Un particolare problema Ma vogliono semplicemente migliorare Perché magari sono insoddisfatte Magari hanno anche Un margine di felicità maggiore Rispetto a quello che provano In quel momento Invece siamo ancora legati Questo penso Sia il grande tema Della nostra generazione Penso che la nostra generazione Sia la prima generazione Che si sta legittimando A voler essere felice No? Cioè lì dove le grandi forme Sono un po' crollate Nel bene e nel male No? Fino le generazioni precedenti Si adeguavano anche A un'idea di vita Che potesse essere Fare famiglia Che potesse essere Avere subito un lavoro Che negava la dimensione Del poter proporre Una fragilità O del proporre Una necessità di felicità Noi siamo una generazione Che nel perdersi Certo Nel disorientarsi Però si sta chiedendo Come faccio ad essere felice In questa vita E questo è un grande tema Ma sì Secondo me sono chiesti Un po' tutte le generazioni Però la società di oggi La società in cui noi viviamo Che sembra un po' Una frase sciocca da dire Però intendo anche I social media La cultura di riferimento A dei modelli Ti porta a essere Molto più suscettibile Al tema Ma io sono felice Magari In un'epoca passata Era più semplice Nemmeno domandarselo Perché alla fine Avevi dei modelli di vita Abbastanza Anche della comunicazione Dei mezzi Di comunicazione Di massa Che per noi Sono normalità E quanto è vero Quando si parla Del Però vedi Questo film Non mi ha raccontato La storia reale Perché Io per dirti Io ho un problema Quando vedo i film Se finiscono troppo bene Mi infastidisco Ma perché? Perché vorrei A volte invece Vedere una storia Che finisce male Come succede nella vita Perché non è vero Che il lieto fine C'è sempre E quindi Io a volte dico No cazzo Però dai Non è realista Che finisca così Perché queste due persone Non si amano Perché si mettono insieme Solo per dare Il contentino Allo spettatore Che torna a casa Dicendo Sono soddisfatto Perché il lieto fine È più importante Dei personaggi Perché la narrazione Diventa più importante Delle individualità Perché il film Deve finire bene Questo è un grande tema Ma infatti Io qua cito già un film Che tratta il tema Magari non in maniera Diretta e assoluta Ma penso sia molto presente Che è Eternal Sunshine Of A Spotter's Mind No? Penso E lo penso da tanto tempo È un argomento Che mi tocca Mi piace molto Che quel finale Quell'ok Tra Jim Carrey E Kate Winslet Sia l'essenza Di quello che dici tu Cioè quel film Non è che finisce bene No Loro si sono semplicemente Accettati Poi probabilmente Si lasciano di nuovo Addirittura si dice Che Kaufman Nella prima versione Aveva immaginato Una roba in cui loro Per 60 volte Si erano tolti la memoria Avevano rifatto Lo stesso giro Proprio per dimostrare Anche un po' incatenati A quel bisogno Di credere Di amarsi Quindi c'è una strana ambiguità Si amano Non si amano Però perlomeno Si sono detti ok Non hanno detto ok A gli etofine Hanno detto ok All'altro È l'accettazione No? Esatto È l'accettazione di se stesse E degli altri Perché in quel film Ovviamente Penso che tutti Abbiamo desiderato Di avere l'opportunità Almeno una volta nella vita Di cancellare La nostra memoria Io penso Ho fatto la tesina Del liceo Sull'ossessione Del ricordo Cioè la memoria Intesa però Quanto ho il terrore Dimenticare cose Che mi fanno andare avanti E quanto in realtà Magari Io per dirti Avevo inserito La Madeleine di Proust Perché gira Tutto intorno A questa cosa E in quel film Rinnamorarsi O rincontrare Una persona Semplicemente Non conoscendola Ma perché I tuoi ricordi Non esistono più Quando in realtà Un legame sentimentale E affettivo Non dovrebbe Dipendere da quello Ti fa capire Anche quanto Autoaccettarsi È fondamentale Totalmente Assolutamente Mi ha fatto venire in mente Una scena bellissima Di The Worst Person In The World In cui Il primo Uno dei finanzati Che è sempre di Di Jock in Trier Bellissimo Che è stato candidato Agli Oscar L'anno scorso Per Miglio Film Straniero In cui lei rincontra Una persona che aveva amato Una persona con cui era stata E lui le dice E lui sta per morire E lui le dice Io mi sono reso conto Che io ho ricordi di te Che neanche tu hai di te stessa Quindi quando io morirò Quei ricordi Semplicemente svaniranno Io ho detto Wow Questa è una delle cose Più ben scritte Degli ultimi anni Che io abbia visto In un film È bellissima Questa cosa Ma poi apro il tema Della memoria Perché in realtà Noi non abbiamo il controllo Davvero Su quello che ricordiamo A certe volte Il cervello genera Dei ricordi falsati Come per me Il finale del giovane Werther Che finisce bene Per me finiva bene Quando l'ho letto da piccolo E invece lui muore Ma secondo me Capita spesso questa cosa Sai su quante piccole cose Noi alla fine Andiamo a creare Dei ricordi Che ci confortano Almeno le persone come me Quindi Leone Ascendente Aquario Noi abbiamo questa tendenza Ora ti è tutto chiaro Ora capisco Noi leoni Ascendente Aquario Avete quale tendenza A edulcorare Un po' i ricordi Cioè Magari una figura di merda Io ci penso un botto Finché alla fine La mia memoria Non è completamente Stata hackerata Da me stesso Fino a diventare un ricordo Che alla fine Quasi che ci rido sopra Proprio per non avere Il trauma forse Comunque Anche per cazzate Parliamo di cose molto piccole Probabilmente sì Anche perché poi C'è la tendenza A rimanere più Le cose negative Per le cose grosse A volte c'è proprio La rimozione di un ricordo Ma ti capita anche al contrario Con le cose belle Che le esasperi Magari le ingigantisci Quando in realtà Non significano nulla Ma è un ricordo Talmente importante Per te A cui aggrapparti Io per dirti Quando preparo i personaggi È un concetto Che tengo molto presente Cioè se per me Ludovica Quella cosa È insignificante Quanto per un'altra persona Possa invece essere Veramente Quasi una ragione di vita No? Una ragione di un periodo Che può andare Per mesi e mesi È talmente soggettivo Il ricordo E la memoria Che abbiamo Anche perché molto spesso Tu pensi di sapere una cosa Ma in realtà Ti è stata raccontata Ma tu sei talmente dentro La storia Che sei autoconvinto Di averla vissuta Molto spesso Scapita con la memoria infantile Dai due Ai sei anni E quindi Quanto è importante Raccontare La memoria soggettiva Della persona Come quando ti racconto Una storia Ci sono due versioni La verità La sa sempre Uno e due Però se tu ascolti Due versioni Quanto possono essere Due film Completamente diversi Verissimo Molto vero Eh questa cosa È una figata E questa mi fa pensare A un altro titolo Molto semplice Ma che ha dato Secondo me ha avuto Un impatto Nel cinema contemporaneo Importante Che è Shutter Island Che è un film Che è per quanto È una di quei cazzo di film Che perché sono diventati Mainstream Allora diventano In qualche modo Svalutabili Dalla nicchia cinefica Sì allora è solo un thriller Perché è una grande stronzata Perché è un gran bel film Oh se io non so Quali parolaccio Andrò Sì forse troppo Vabbè sono Sono inutili Sì sì Si è fomentato Sono fomentato Gli volevo dire Tipo Alla prossima Scatrona Vai vai Shutter Island In qualche modo Questa dinamica È assoluta No Quella dimensione In cui Cosa è vero Cioè Cosa è vero Se non la scelta Che noi facciamo Di decidere Cosa è vero per noi Allora Quel famoso finale No Meglio vivere da mostro Che morire da uomo Per bene Alla quinta volta In cui ti rivedi Shutter Island Perché quel classico film Che se l'hai visto a 14 anni Te lo vedi quattro volte Con tutti gli amici Gasatissimo Minchia Shutter Island Poi Alla fine È molto probabile Che Di Caprio Avesse benissimo capito Che lui effettivamente Fosse pazzo Quindi non è più tanto Un tema di È vero o non è vero Ma è proprio Una questione di scelta Cioè lui Sceglie la sua verità Alla fine dei conti Noi possiamo sapere Mille cose di noi stessi Possiamo sapere Mille cose degli altri Ma ciò che rimane Impresso nella realtà È quello che facciamo È quello che fanno Gli altri Quindi la sua scelta È di morire da uomo per bene È per questo Meno vero Del fatto che lui In realtà Avesse avuto quel trauma Avesse ucciso Sua moglie È una domanda Cioè cosa rimane Se non La scelta di una persona È la tua scelta Poi lì c'è anche Tutto il discorso Della socialità No? Che rispetto al nostro Mondo contemporaneo È una scelta Quasi impensabile No? Quindi L'essere rinchiuso Fisicamente e mentalmente Quindi avere un dialogo Costante con se stesso E poi Io penso Ho preparato un monologo Poco tempo fa Con il mio coach Ed era Il monologo sul presente E c'è questa frase In cui lei dice Il presente mi impedisce Due cose Di essere matta E di essere libera Perché Io nel presente Non riesco Mi sfugge il tempo Nel presente No? Non lo riesco Non riesco a starci appresso Se penso al passato Invece Quante lacrime posso versare Nel dire Quella cosa L'avrei dovuta fare così Ah non avevo capito Mentre ora mi è chiaro E quindi il presente E quello che tu pensi Ti sfugge Non lo acchiappi Mai Lo sentite questo odore Di clip tiktok Pazzesca Madonna Lo avevo sentito fortissimo Stavo stesse bruciando qualcosa Invece era Era l'odore Di clip tiktok Fichissima Sottovaluti Io racconto la storia Delle mutande Se no Comunque salutiamo Harry Love's Club E soprattutto Nicola Conversa Che per la prima volta Ci segue Zatwich Bella Nico Ci vediamo stasera Tra l'altro Grande Che scrive Quanto è brava La bizzaglia Ma lui è bravo Sì È grande Nico Comunque bellissima Questa cosa che hai detto Bellissima Veramente bellissima E mi ha fatto venire Un altro film in mente Mi sta piacendo Ti do una piccola chicca Tra l'altro Su Shutter Island Che è una roba Che secondo me Non viene tanto considerata Cioè In tutto E in traum In tedesco Aspetta Io sono qui solo per un motivo Perché rifaccia Quella roba Ti prego Allora Che trauma in tedesco Deriva da traum Che poi mi hanno corretto Perché sono entrambe lingue Sì No La questione è che E in traum In tedesco Significa Sia una cosa che l'altra Ma deriva dal greco Traum Adesso per tutti i professoroni La facciamo che deriva dal greco E non dal tedesco I professori dell'università di Bologna Che commentano i nostri tiktok Esattamente Ci mandano delle mail Che significa Sia sogno Che trauma È un po' Lo stesso connotato Di farmacon Che sia cura Che veleno Cioè È un po' Quel concetto È la giunta Solo per te Non l'ha mai detto Prima farmacon Questa è una novità È mostrum Che in latino È sia mostro Che meravigli Io ho fatto linguistico Quindi No Calma 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 Una alla volta Volevo dirti che In realtà Una cosa geniale Di Shutter Island È che tutto il film È costruito Sulla tecnica Del role playing Che è una modalità Psicoterapeutica Cioè Quello che fa fare Come si chiama Ben Kingsley A Leonardo Di Gandhi A Leonardo Di Caprio È tutta una gigantesca Seduta Su tre giorni E tre notti Di role playing Al fine che lui possa Affrontare le proprie paure Cioè Questa cosa è geniale E invece poi Come dici tu Quando diventa mainstream Scade nel È un thriller No 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 È vero Ma c'è quel dialogo Nell'ufficio di Ben Kingsley Alla fine del film Che ti spiega Tutta questa cosa qui Esatto Sai qual è il fatto Di Shutter Island Che è un film Che la seconda volta Che lo vedi Capisci un sacco di cose in più Anche questa cosa La capisci la seconda volta Che lo vedi Certo Se lo rivedi Noti che tutte le scene In cui c'è un'ambiguità Tutti gli altri Tra di loro si guardano Esatto Come per dire La possiamo ancora gestire Questa situazione È ancora sotto controllo È una figata Oppure c'è un mille dettagli Tipo che il bicchierer sparisce Ti rendi conto Che la prospettiva di Di Caprio È effettivamente Una prospettiva psicotica Cioè ti rendi conto Di un botto Ma infatti sembra più Un film di Nolan Che un film di Scorsese Ma sai che un botto di gente Secondo me Pensa che sia un film di Nolan Perché un botto di gente Ogni volta scrive Tipo i miei film preferiti Sono Inception E Shutter Island Come se fossero entrambi di Nolan E questa cosa mi fa volare Ah pensa te Beh anche molto col cigno nero Questa roba Secondo me c'è molto Perché è tutta la visione della protagonista Che in realtà Lei arriva ad un certo punto In cui non capisce più Se sta sognando Quello che vive O se la realtà Si è completamente capovolta Ed è talmente sotto pressione Da un personaggio Che in quel momento Interpreta l'antagonista Che anche lì però Eh no L'antagonista Cioè è stato mandato Per far fare una svolta personale Al protagonista Oppure interpreta solo Il pensiero malvagio Di quel momento lì E lì ci sono anche Delle inquadrature A me è un film Che ha messo particolare angoscia Perché ci sono questi Questi stacchi Questi primi piani Lei piange Poi lei è di nuovo pronta Cioè l'ambiguità Tra il cigno nero E il cigno bianco Lei è capace di interpretare Entrambe le cose Servono due persone diverse E è una cosa A cui mi hai fatto pensare adesso Parlando di Shatterana Secondo me hanno delle similitudini È vero Assurde Molto figa Questa cosa che hai detto Perché penso che Il cigno nero è un film bellissimo Secondo me Anche quello a tratti un po' È stato bistrattato Forse il più bello di Arafunowski Forse il più bello di Arafunowski Insieme a Pigreco Che è molto bello Conta che non ho mai visto Quello sulla droga Perché come sapete Sono molto sensibile Sì Sì Alli aghi Certo E Come si chiama Madò Quello con Non mi stai parlando Con Gia Relledo E Jennifer Connelly Sono d'accordo E la cosa affascinante Secondo me Anche del cigno nero E che aggiunge anche Sono molto d'accordo Con quello che hai detto Aggiunge anche un altro tassello Cioè Quanto Ci sia Una connessione Tra L'opera d'arte La performance definitiva E la perdita La sregolatezza Del proprio controllo mentale Cioè lei Per ottenere Per arrivare a quel punto Di grandezza Come ballerina Deve Distruggersi Che è un eterno tema Perché Che a volte Noi abbiamo detto Anche Non è detto Uno può essere Un grande artista Ma stare anche bene Però è un po' Una sfida Nel senso La questione Genio e sregolatezza È sempre un tema Sai che Pitagora Era schizofrenico Ma dai Cioè Si 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 Ma perché Ti devi È come se ti dovessi Distruggere del tutto Per rimontarti a capo Però è vero Senza istruzioni Nel senso che Io mi devo Far partire da zero Costruire da zero Ma nessuno mi dice Come farlo Perché siamo tutti Pezzi unici No E quindi Quello che funziona Per te Non funziona per me E anche per l'artista In sé È vero Quanto costa Ho sentito un giornalista Una volta che diceva Io per scrivere bene I miei articoli Li devo litigare sempre Con qualcuno Perché se sono incazzato Se litigo Scrivo meglio È questa cosa Però è vera Cioè Quanto ti serve Il contatto Con la tua realtà personale Con la tua vita privata Avere dei problemi Per riuscire a performare Al massimo Nel tuo lavoro O quanto invece Hai bisogno Di una stabilità mentale Talmente flat Che appena ti succede qualcosa Inizia a scrivere Capito Qualcosa si rompe È anche uno dei motivi Dei problemi Della nostra società di oggi Perché un tempo Si lavorava molto di più Col corpo e meno Con la testa Adesso la testa è fondamentale Cioè anche se fai un lavoro In ufficio Dalle otto Alle nove di sera Comunque hai bisogno Di essere mentalmente Sempre sul pezzo La tenuta mentale È fondamentale È una roba importante Perché quando fai Attività fisica Banalmente È un modo per scaricare Certo Quando giochi una partita di calcetto Non pensi mai I tuoi problemi Invece se sei In ufficio Col computer E devi usare la testa Quanto ti influenza Comunque la tua vita privata E quanto poi La tua vita privata Entra nel lavoro che fai Comunque in qualche modo È viceversa Perché comunque Usi sempre Lo stesso organo Invece il sesso Lo sport Una serie di cose Che non si fanno Con la testa O comunque Beh che però Hanno una relazione Con la testa Dipende di che tipo Sì secondo me Tu sei il classico Che fa sesso Completamente con la testa No invece Sì vabbè Non sarei che Devo rispondere Però in realtà Io mi sono reso conto Io che sono una persona Molto mentale E poi chiuderò All'istante Questo argomento Io che sono una persona Molto mentale Che la dimensione sessuale È l'unica In cui io lascio Veramente andare La parte corporea In un modo molto libero Che è un modo È un modo di darmi ragione Su questo discorso Eh sì Però poi Ci penso dopo Quindi comunque C'è un rapporto Io ho riflettuto Su questa cosa Mi sono reso conto Che io che sono Iper mentale Quella è l'unica dimensione In cui invece Ho un rilascio Molto più di corpo Ma anche quando giochi A tennis Conto frappo Eh zio vabbè Il tennis Tra l'altro Consiglio un libro Attività sportiva Ma poi a Frappoli Faccio il culo Pilates Pilates Eh dovreste provare Eh dovrei sì Io ho fatto Pilates Davvero? Oh ma 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 Mastroianni Ciad Ha fatto un abbonamento E quindi qua c'è il freestyle Di Pazzo Fammi una base La fa Andre La faccio io Sì ho fatto No no Devi tenere un ritmo fisso Più piano No vai no Più caldo è un ritmo Ok ok Cos'è sta roba Bella Bella Oh my god It's Pasco Yeah Hey Mastroianni Ciad Hai fatto questa sub Sei un grande bra Io ho fatto Pilates Con Vailati Che mi filmava In un hotel A Sestri Levante Qualcuno mi aveva detto Che ci ospitava Ci vediamo a Sestri Levante Quest'estate Ospitateci di nuovo Perché non vogliamo pagare L'Airbnb Grazie Non so se era più Un freestyle Era un po' Slam poetry Secondo me Però ti è piaciuto Zino Molto Ti è fatto pure l'intro Un po' alla DJ Khaled Comunque Informiamo Chiunque sia interessato Che molto presto Avremo una base Ad hoc Creata Noi vogliamo delle basi Da un artista Che quando partirà un prime Ci sarà La freestyle di Pasqua Esatto Comunque Tornando a noi È stato un bel momento Una bella parentesi Siamo tutti contenti Siamo tutti felici Ma è finita Dicevo Farei questa cosa Dato che appunto Ci sono mille modi Per toccare questo tema È molto interessante Vi chiederei Qual è il primo Film o serie tv O comunque opera Audiovisiva Che vi viene in mente Qualcuno volò sul nido del cuculo Alla parola salute mentale Qualcuno volò sul nido del cuculo Ok Perché è un film Che ci fecero vedere a scuola Proprio parlando dell'argomento Parlando dei manicomini Dell'eletro shock Che comunque sono realtà Del passato che esistono E sono esistite E in alcuni paesi Ancora tuttora sussistono È un modo sbagliatissimo Ovviamente Di trattare la salute mentale Rinchiudere delle persone Con problemi In un posto Tra l'altro tuttora In realtà ci sono dei problemi A riguardo C'è un'associazione A Bari Di cui purtroppo ora Non ricordo il nome Sono la citerei Che tratta proprio questo argomento C'è quanto comunque Una persona che ha dei problemi E viene portata all'interno Di un centro Per la salute mentale Oggi Comunque si trova A interfacciarsi Con persone Che hanno problemi enormi E che hanno Un'età diversa da loro E si possono spaventare Di questo E puoi arrivare A pensare Io magari divento così E quindi perdere Anche un po' le speranze Nel processo di guarigione Quindi c'è tutto un tema Che qualcuno volò Sul nido del cuculo Tratta Nonostante sia un film Molto vecchio Comunque Ora Cazzo È del 70 Anni 70 comunque E c'è il personaggio E c'è il personaggio dell'indiano Che è un personaggio incredibile Ma infatti volevo dire Una sola cosa Potremmo fare una puntata intera Su qualcuno Ma abbiamo talmente Tante robe di cui parlare Che ci perdiamo Però ci stava a citarlo Sì noi hai fatto benissimo È un'opera fondamentale Con un Jack Nicholson Clamoroso Ma anche l'attrice Che fa l'infermiera Che vinse l'Oscar Quell'anno È bravissimissimissima Io penso che l'indiano Sia un personaggio favoloso In quel film Perché? Perché per tutto il film Tu pensi che l'indiano Sia il più folle di tutti Non parla Non ha interazioni sociali È completamente dissociato È completamente annichilito Quindi Se tutti In qualche modo In un modo però Con grande rispetto Secondo me In quel film Manifestano Delle dinamiche Psicopatologiche Però comunque Rese simpatiche Ma mai Deridendole Perché c'è un grande rispetto Almeno poi chiedo anche a voi Un parere su questo Assolutamente L'indiano è l'unico invece Proprio inaccessibile Imperscrutabile Non riesce a capire Chi cavolo è E alla fine in realtà L'indiano è completamente sano Semplicemente l'indiano È talmente deluso Dall'essere umano Che ha scelto di andare In un luogo Dove perlomeno Gli esseri umani Sono sinceri Ed avanti a Jack Nicholson Che invece È un umano sano Tra mille virgolette Appunto Che però va lì Capisce Quanto quelle persone Meritano Tutto un altro rispetto E tutta un'altra Forma di empatia E si ribella Solo in quel momento L'indiano dice Allora c'è ancora Qualche umano In questo mondo Che ha rispetto Per gli altri esseri umani Allora io lo salvo E che in quel caso Salvarlo vuol dire Ucciderlo Allora io torno Nel mondo Cioè l'indiano È un personaggio Wow Ma proprio wow Fighissimo Questa cosa che hai detto Bravo 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 Potresti farlo per lavoro Questo è Preferiresti essere Potresti farlo per lavoro Preferiresti essere Potresti fare un podcast Che parla di cinema Te l'hanno detto Che cazzo È un'idea geniale È un'idea geniale Pensate che gli aveva detto Zino Esatto Non lo facevi Non era veramente Un pensiero di vai lati Lui queste cose Ce le sbobinava a noi Di solito Io ho tre titoli Ne devo scegliere solo uno Puoi dirli anche tutti Puoi dirli tutti e tre In fila Allora i miei In fila no I miei sono però Per motivazioni diverse Sono ragazze interrotte Sono in lato positivo E sono a star is born Ok Ragazze interrotte Perché credo che tratti La salute mentale Ma nello specifico Per quanto riguarda Tutta la sfera femminile E quindi anche quanto Di La femminilità Per una donna Venga messa in dubbio Nel momento in cui Si parla di una patologia Riconosciuta E quello che dicevi tu È molto importante Perché anche lì Come la curo Rinchiudendo tutte persone Insieme Con patologie Completamente diverse Che sono tra l'altro Deleterie L'una per l'altra E io penso che lì Esca fuori proprio Il problema Dell'addiction No Di anche quanto L'alcol Le droghe I problemi affettivi Quanto La verità Nasce tutto poi Dalla famiglia No Questo lo troviamo Anche in a star is born Perché Spoiler o no Non posso spoilerare Perché finisce Con il suicidio Del personaggio Interpretato da Bradley Cooper Che nonostante Una fama mondiale Nonostante quello Di cui parlavamo prima La riuscita totale Della propria arte Quindi della propria espressione No Io molto spesso Ho colleghi Che mi dicono Io ho scelto di fare l'attore Perché non sapevo bene Come dire Quello che pensavo Avevo bisogno Di esprimermi E questo era l'unico lavoro Che mi permetteva Di farlo E lui però Si suicida Nonostante l'amore presente Di una donna Che lo amava follemente Che invece Vediamo in maniera positiva Come dicevi tu Nel lato positivo Con Jennifer Lawrence Che tra l'altro Vince l'Oscar Aveva forse 20 anni Sì È del 2000 No no È del 2000 12 12 forse 11 12 Ok Bradley Cooper Ha un problema Di sociopatia grave Di disturbo bipolare Entra ed esce Dalla clinica E l'amore sano Lo salva Però non elimina La malattia Perché le malattie mentali Si curano È una convivenza È una convivenza Con un amore sano E quindi Questi sono tre film A cui io sono particolarmente Attaccata Bello Peccato che in due di questi C'è Bradley Cooper Allora Bradley Cooper Cooper è mio marito Quindi forse anche questo È il motivo Per cui Allora devo dire La sua performance Il licorispizza Che non c'è da niente Però mi è piaciuta da morire Però in Il lato positivo Il lato positivo Ci sta secondo me A approfondirlo un pochino Più che altro Perché è quello che mi ha Che ora tipo Pensandoci me lo ricordo Anche per la nostra generazione Eravamo tutti a un'età In cui avevamo magari L'abbiamo visto Eravamo pronti A prendercelo Esatto Il persaglio di Robert De Niro Quindi quello che dicevi Arriva dalla famiglia Allora la famiglia In quel film Poi quello è l'ultimo film bello Di David Russell Probabilmente sì Perché dopo c'è stato Quell'altro con American Astro American Astro È un tema Però rispetto al lato positivo È a The Wrestler Cioè nel senso Comunque stanno arrivando Dei commenti Poi li citiamo Pazzeschi Ma li citiamo Il lato positivo Secondo me Riesce a svelare Un po' Tutto Un meccanismo All'interno Della dinamica familiare Esatto Che è tipico dell'America Di un certo tipo Ma è tipico anche Dell'Italia Dell'Italia un po' Più provinciale Magari Quella dove siamo cresciuti Io e Vailati Che veniamo dal sud Stai facendo Dell'autoterrona Nessimo Cioè ti stai Mettendo da solo È vero Perché Beh io riscontro Nella mia famiglia Cioè Senza fare Non sto dicendo Che mio padre È come Robert De Niro Però Senza fare nomi Mio padre Ci rivedo molto Quella dinamica Della vittoria A ogni costo Lui è fissato Con le scommesse Sì Tifosissimo degli Eagles Sì ma anche Che lui non è giustificato A stare male Perché Lui inizia a stare male Perché viene lasciato Dalla moglie Quindi non viene considerato Un motivo valido Per cui Stare male E soffrire Perché non c'entra il lavoro Non c'entra il maschilismo Tossico Che molto spesso Nei film americani Viene rappresentato E quindi anche La figura della donna Serve solo ed esclusivamente Alla riabilitazione Psicofisica Del personaggio maschile No No Infatti Infatti Anzi Esatto Anzi La dinamica Che si dicevano tu È verissima Proprio perché Si tratta solo Di una questione Legata alla moglie Non dovrebbe mai stare male Anzi Ti risposi E passa tutto Invece C'è proprio Il personaggio Jennifer Lawrence Penso che sia un personaggio Favoloso In quel film Favoloso Tanti mi rivedo Molto di più In Jennifer Lawrence Che in Brad Bellissimo Ma anche perché Lei tra l'altro Lei vabbè Secondo me è stata Una pioniera in questo Che ha iniziato a trattare Anche i temi Della sessualità Del libertinaggio Con i suoi ruoli Che non eravamo Molto abituati a vedere Perché lei ha detto I don't care Anche nelle interviste Lei è Io parlo di questo Non mi interessa E adesso ho visto Una babysitter in affitto Che è il suo nuovo film Prime Che è una commedia Assurdo Che lei si sia calata In un personaggio Completamente diverso Ma anche nel lato positivo È la donna Che ha questa Libertà sessuale Che quello di cui Parlavamo prima Il sesso Non è interpretato In maniera mentale O sentimentale Ma come unico sfogo Mentre l'uomo Va a ricercare L'aspetto romantico Del tema E lei si è sempre Fatta carico Di questi personaggi Molto femministi Però con un femminismo Reale Che al patriarcato Gli dice Ma sai che c'è Basta Sì sì Ma che al patriarcato Gli insegna Lui si prende L'atte cereali All'appuntamento Sì Sì È un po' una cosa Che farei io Ma poi è stupendo Il fatto che lui Sia veramente Un mega tifoso Degli Eagles E quindi come vive Le partite A tifosi futuro americano Questa è una cosa Che solo tu riesci È una bellissima chicca Ma ragazzi è lui allo stadio Lo inquadra ovviamente Sempre in lo skybox Da 9.000 euro Ah dici nella realtà Nella realtà È fuori di testa Per il football E riporta completamente Quella roba Che secondo me L'ha aiutato un sacco In quell'esternazione emotiva Folle che hai Nel momento in cui Tifi per uno sport Perché attinge veramente Al peggio di te E lui è un ultras dell'Inter Ma in tutto ciò Ma questi commenti Aggiungo una roba Ora ci andiamo Che in realtà De Niro Ha palesemente Una dimensione Un po' psicopatologica Legata alla dimensione Compulsiva ritualica Però in quanto Padre di famiglia Di un'altra generazione Non viene mai Ma in realtà La dinamica Forse anche genetica Di Bradley Cooper Può avere in De Niro Cioè il rapporto Padre figlio Un film è interessante Perché anche De Niro È palesemente Con una dinamica ritualica Del Devo fare le scommesse Sì è uno stessivo compulsivo Quindi è molto affascinante Che anche De Niro In qualche modo Si risolve Attraverso la riappacificazione Col figlio Nella scommessa Che coinvolge il figlio E qui dico Una sola cosa Diciamo di carattere Tra virgolette Filosofico Psicologico A cui tengo molto Che quello che Io penso sia Uno dei miei temi preferiti Che potremmo dire Che sia di Jung Che di Lacan Lacan però in modo diverso O come direbbe Qualcuno Lacan Un saluto recalcati Quando vuoi Massimo Noi siamo qui Praticamente Che è il principio Di individuazione Cioè nella grande dinamica Della differenza Tra Freud e Jung Della guarigione All'individuazione La grande rivoluzione Jungiana È quella del dire Il punto non è Ritrovare il trauma E guardarlo Come una forma di Stalattite Lì ferma E intoccabile Ma è Rindividuarsi Attraverso il trauma Che è quello che dicevate Voi prima Della convivenza Non è che tu risolvi In assoluto Certo Come dicevi tu In una certa parte Che può essere farmacologico Di vari generi Vai anche a curare Come curi un dolore alla gamba Ma c'è anche Tutta una parte Psicologica Psicocreativa Mi verrebbe di dire In cui tu O psicomagica O psicomagica In un certo senso In cui tu impari Ad essere Attraverso il tuo modo Di essere Cioè Il tuo essere ossessivo Il tuo essere In qualche modo Border Ovviamente ridimensionato In una dimensione Di sostenibilità personale Diventa il tuo modo Di identificarti Quindi non c'è Non ci deve essere Un rifiuto di te stesso E quella roba di De Niro Ovviamente In una forma semplificata Narrativa cinematografica Del lato positivo È interessante Perché De Niro Fa un atto Ritualico Magico Però per risanare Il suo rapporto Con suo figlio Quindi c'è proprio Un processo In cui De Niro Attraverso la sua dimensione Sintomatologica Però crea Un risanamento Del suo rapporto Col figlio È molto bella Questa cosa Infatti è un personaggio Super proattivo De Niro Nel film Cioè Non so come dire Anche comprensivo A tratti Nella sua incomprensione Di quello che passa Bradley Cooper C'è un tentativo Di abbracciare Un po' Il suo mondo Pur non riuscendo Perché è anche Molto forte Lo scambio generazionale Che è una cosa Con cui noi facciamo Anche tutti i giorni Però lì È una generazione Che la salute mentale Che cos'è? Niente Ho un figlio Che soffre Tra l'altro Diagnosticato Perché anche lì È sempre border Il discorso Perché Se hai una diagnosi Vieni preso sul serio Se non ce l'hai È ansia Hai gli attacchi di panico Vabbè Beviti una birra Che ti passa Perché ancora c'è No? Questo approccio qui E quindi anche quanto Le generazioni I nostri genitori Non avevano questo Quello di cui parlavi tu prima Questo Avere tutti i giorni Schiaffato in faccia La realtà delle cose L'iperproduttività Che ci sta uccidendo Letteralmente Il perfezionismo Perché non c'era Cioè il confronto Lo potevi avere Con un tuo amico Con un membro della famiglia Non con il mondo intero Noi abbiamo accorciato Le distanze in questo No? Sono troppo d'accordo Eh Troppo d'accordo Con questa cosa che hai detto Ma poi molto spesso È anche un'ostentazione Di un'iperproduttività Di un Certo La cosiddetta fomo Cioè Ma che tu apri i social E vedi gente che fa cose Ma io magari Ti senti in colpa Se stai sul divano A non fare nulla Quando in realtà Non dovrebbe essere così Anche perché tipo Cioè un sacco di gente Mi dice Io vedo che fai un sacco di cose Faccio zio Ma io gioco i pokemon 6-7 ore al giorno Non so come È solo che social Io guardo la gente Che pulisce le cucine Su TikTok Ah È bello Dovevi seguire il mio canale Senso di piacere infinito No io veramente Ti dà un senso di piacere Lui lo faceva su Twitch Io lo facevo su Twitch Tre anni fa Pulivo casa mia In live sempre Ti servono un sacco di trucchi Magici Sulla pulizia e l'ordine Ok Interessante Ma tu non hai idea del casino Comunque Mi collego a Grazie a tutti i commenti super belli In particolare a questo punto Per dire il mio film Che non era quello A cui avevo pensato in origine Ma che attraverso un commento Di quel grande Di Mastroianni Chad 01 Mastroianni ma stai spaccando oggi Fortissimo Potentissimo oggi Ha detto due cose bellissime La prima però mi è piaciuta molto Perché mi permette di guardare La cosa da un altro punto di vista Cioè lui ha detto After Sun È un capolavoro Sulla memoria Come mezzo Per la rielaborazione Del trauma Verità Cioè After Sun La cosa più bella Di After Sun È che La protagonista Non è colei Che ha Un disturbo Psicopatologico In questo caso Depressivo Ma è il padre Quindi Tutto il film È un film In cui Attraverso cui La regista Perché poi è una storia Simil vera Io ho letto la lettera Che ha rilasciato Charlotte Weiss La regista Quando è uscito il film E mi sono emozionato Perché è una lettera Incredibile In cui lei mostra Anche una polaroid Vera Della sua storia Con suo padre In cui la regista Attraverso un film Completamente O comunque Parzialmente autobiografico Ripropone Quel mondo Quella ferita Insopportabile Inaccettabile Impossibile Ci permette Di accedervi E questa è la magia Del cinema C'è una persona Che racconta Una storia Così personale E decide anche Di dire Guardate Guardatela con me E noi stiamo lì A dire Ok Entriamo anche noi Wow Che roba è La funzione terapeutica Dell'art E lei che Elabora Il suo trauma Non perché lei Avesse Una patologia Ma perché Suo padre Ce l'aveva Quindi un film Sull'altro Questa roba È bellissima Sì anche Metterti in mano Una cosa Secondo me Quello che devono fare I film È uscire dalla sala E cambiare idea Oppure avere uno spunto Per creare una Non una nuova idea Ma una nuova prospettiva Nel guardare quella cosa Certo Una riflessione Io quando vado al cinema Spero sempre Di uscire E di aver cambiato idea Su qualcosa Anche perché L'ignoranza Intesa come tale È proprio la non conoscenza Di un qualcosa No E quindi anche questo Desiderio di voler sapere tutto No Io Il cinema pensa Mi ha insegnato A non dover avere sempre Un'opinione Cioè Non le esprimo un'opinione Se prima Non sono abbastanza informata Su quell'argomento Per creare una mia idea Cioè Faccio un passo indietro No E il cinema Questo me lo dà tanto Quando esco dalla sala Dico Ti è piaciuto Non lo so ancora Ci devo pensare Devo capire Come mi ha colpito In cosa ha colpito Di mio personale E poi ti dico Che ne penso Io Un'altra clip Io sono l'opposto Quando rimango in silenzio Sto annusando Quell'odore meraviglioso Volevo rispondere A Mastogliani Ciotti In realtà Perché il suo commento Mi ha fatto pensare A Paranoid Park Di Gas Van Sant Che è un film Che non era uscito fuori Nel nostro brainstorming Però in realtà Parla proprio di questo Dell'elaborazione Di un trauma Perché questo ragazzo Vede un uomo Morire Investito a un treno O una guardia E il film È tutto L'elaborazione Di questa cosa Che è successa Perché all'inizio Lui viene accusato Di essere stato Però Comunque Questo me l'aveva fatto pensare Il commento di Mastogliani In realtà Poi tutto il discorso Di Vailati Mi ha fatto continuamente Rimbalzare nel cervello La danza della realtà Di Jodorowsky Perché quello è un processo Di realizzazione Di un film In cui lui Decide di lavorare Con membri della sua famiglia Di rappresentare La sua infanzia La sua vita In maniera completamente Allegorica E folle E surrealista È appunto Psicomagica Psicomagica Ed è quello che ha fatto Charlotte Wesch Però all'enetima potenza Perché lui proprio dice Tieni questa è la mia infanzia Danza con me Sì no È pazzesco quel film Zio Cioè lui in quel film Riprende la sua famiglia Ok La sua famiglia cilena Lui è un ebreo cileno Nel tempo di Pinochet Quindi nel tempo Della dittatura E lui aveva La madre Donna completamente soggiogata A un padre patriarca Che aveva sempre detto Io vorrei fare La cantante lirica E quindi nel film La madre parla solo Cantando musica lirica Fa solo Aleandro Canta solo musica libera Lirica Il padre Uomo dominante Distruttivo Patriarca Che diceva sempre Io voglio uccidere Pinochet E non l'ha mai fatto E nel film lui cosa fa? Fa fare a suo figlio Suo padre E lo fa andare A uccidere Pinochet E poi Come se il padre Effettivamente Avesse dedicato Una parte della sua vita A fare quello che dicevano E lì c'è un percorso Cristologico Perché proprio Cristologico del padre Che arriva ad avere I capelli lunghissimi La barba C'è proprio Una totale catarsi cristologica In cui il padre Capisce se stesso E in questo modo Lui facendolo fare A suo figlio In qualche modo Risane il trauma Di una famiglia E poi C'è forse Una delle mie dieci scene In questo periodo Sono in fissa Che voglio fare un reel Sulle mie dieci scene preferite Non sui dieci film Ma sulle mie dieci scene E ci sto pensando E ora che ci penso Questa è sicuramente Una delle dieci scene Che è la scena In cui suo nipote Nella vita reale Interpreta se stesso Ma quella sulla scogliera Quella sulla scogliera E allora c'è suo nipote Che c'è questa scena Incredibile Fatta con dei pupazzetti Di legno Che sono tutti Dei cazzi di legno Perché loro Essendo ebrei Avevano il pisello Circonciso E allora C'erano tutti gli altri Che lo deridono E fanno Perché c'è una scena In cui si masturbano Su una scogliera Cioè In un gita scolastica Tutti i bambini Vanno in un punto Da scogliere E si masturbano insieme È una roba che succede Molto spesso In realtà alle medie Esatto Però lo fanno Con dei pupazzetti di legno Quindi sempre l'allegoria Ha sempre la dimensione simbolica Lui viene preso in giro Lui va su una scogliera Per ammazzarsi Per buttarsi E lì Jodorowsky Regista Entra In scena Dichiarandosi Parlando con suo nipote Che nel film È lui da piccolo E dicendo Non farlo Quello che tu sei ora Mi permetterà Di essere Di essere me Tra qualche anno Io non sono più te E tu non sei ancora me Qualcuno ci sta sognando Vivi Però quella scena è Lui Che dice a se stesso Bambino Che però nella vita reale Suo nipote Accetta la vita Perché la vita è bellissima Beh ma è un discorso Che tutti abbiamo fatto La lanza della realtà Signore e signori Se potessi parlare con me Di dieci anni Se potessi parlare con me Di quindici anni Non c'è nulla di più vero Nella psicologia umana E immaginati se lo fai fare A tuo nipote Quindi c'è Un'operazione familiare Magica In cui tu attraverso il cinema Stai parlando con tutta la tua famiglia Con chi non c'è più E con chi deve ancora diventare Nello stesso momento Perché la cosa bella dell'arte È che poi Effettivamente tu ci metti dentro Delle robe tue Tutto quello che vuoi Però poi è una cosa che rimane lì E chiunque può guardarlo E vederci delle cose sue E può proiettarci Qualcosa Che non c'è Certo Sì è come se una volta che uscisse il film Non è più tuo in qualche modo Perché diventa di tutti E ognuno ci fa un po' quello che vuole Secondo me è una poesia assurda Questa qui Se ci pensi Totale È la massima espressione di empatia Che si può raggiungere Sì perché è una cosa Forse è la cosa più personale Che un artista Un regista Un attore possa fare Ma poi esce E non è più tua È una condivisione obbligata Che hai Vuoi o non vuoi Del tuo lavoro E molto spesso Quanto è anche Rispetto a quello che dicevi tu prima Il concetto del tempo Perché tu giri un film E molto spesso capita Che il film esca Dopo un anno e mezzo Due anni Due anni e mezzo Non è una cosa così immediata Quindi anche quanto Viene cristallizzata L'arte di quel momento La tua salute di quel momento E poi esce In un momento Completamente opposto Della tua vita O in un periodo storico Completamente diverso La felicità Del film di Paolo Cortellesi Per me è stata anche questa Quanto sia stato bello Che sia uscito anche In un periodo storico Giusto In cui Per fortuna Siamo andati a vedere Qualcosa che rappresentasse Esattamente quello No? Sì sono super d'accordo Sono un fan sfegatato E quindi Anche il fatto di sapere Che un film Viene girato in un momento Ma che tu lo vedi A volte Molto tempo dopo È una poesia Se ci pensi Non è una cosa Così immediata No? No è voglia È voglia È che in qualche modo Non invecchia Un gran bel film Non invecchia mai Non invecchiano Le tragedie greche Di 3000 anni fa Figuriamoci Il tempo era ancora peggio Anche i quadri Non invecchiano Le cose belle Quasi tutti i libri Classici È come la poesia È sempre attuale O meglio Puoi sempre Modernizzarla E ritrovarla Rispetto a quello Che ti serve È uno strumento Ma infatti Per chiudere Il giro Di film Di questo approccio Qua Visto che ne avete citati Soprattutto Ragazzi interrotte Forse è stato il primo In cui ho Diciamo Toccato con mano Anche quello Che è l'istituzione Che c'è dietro Alla gestione Della salute mentale Che è un argomento Super delicato Qualcuno voleva Sul nido del culo Sicuramente Poi ci sono stati Altri momenti Tipo Memento Fight Club Ma in cui Lo vivi più Come spediente narrativo Forse Che come Vero disagio Vero disturbo In cui ritrovarti Volevo citarvi Due interpretazioni Che sono state Le due Che mi hanno fatto Più empatizzare Da un punto di vista Personale Con quella che può essere Una condizione Di disturbo psicologico Che sono Anthony Hopkins In The Father Che è tutto Un racconto Di come si vive L'Alzheimer Che è un'operazione Incredibile E Anna Hathaway In Mother Love Che è Siccome è La più grande Riuscita In termini di performance Empatica Sul disturbo mentale Ho citato La mia serie preferita È una serie Il mio episodio preferito È una serie prime Ok Pensa Scusa Se ti ho interrotto Ma è veramente La mia serie preferita È bellissimo Perché racconta Tutte le tipologie Di amore Quindi c'è L'amore per se stessi L'amore per la coppia L'amore per la famiglia E c'è questo episodio Di A Hathaway Che è Incredibile È un'interpretazione Fantastica Cioè lei che va a fare La spesa In una condizione Completamente Fuori dalla norma Fuori di testa Sì E lei ha questo Disturbo Ossessivo Compulsivo Poi un disturbo Bipolare Lei non riesce a capire Perché non riesce Ad essere felice Cioè Lei si chiede Durante tutta la puntata Ogni puntata È un film È una storia a sé Perché io non riesco A essere felice Perché la mia salute mentale Mi impedisce Di essere felice Perché non sono normale Perché non sono come tutti gli altri Quindi Facendo cose normali Vado a fare la spesa Sì io vado a fare la spesa Perché non riesco a fare la spesa Come lo fa una persona normale E lì anche però Ti lascio Almeno a me È il pensiero del Ma è così bello Essere normali Cioè nel senso Veramente deve essere Un punto di arrivo Il fatto di essere Uguale a tante altre persone E Modern Love Hai citato proprio Un tema che è Che poi è tratta Da una serie di racconti Storie vere È tratta da una rubrica Del New York Times Pensa Da una rubrica Settimanale Del New York Times Che intervista Sconosciuti per strada E poi Le racchiude In questa rubrica Quindi Un po' comizi D'amore di Pasolini Però Contemporaneo Nel senso L'ore è bellissimo Sono d'accordissimo Modern Love È veramente una chicca Perché sono tutte storie Simil vere Ovviamente Un minimo romanzate Però vere Che sono uscite Per un po' di tempo Su New York Times E che hanno raccolto Chiamando Alcuni tra i migliori attori C'è Olivia Cooke C'è Olivia Cooke C'è Keith Harrington Come se qualcuno Facesse una serie Sulla zanzara Su tutte le streghe No Non è tipo così Mi dissocio Mi dissocio Non è così C'è una stupenda Contina Fei Sul divorzio Sul divorzio Sì anche perché Poi lì è bello Perché c'è anche tutto Il discorso anagrafico Cioè finalmente Esatto Un unico prodotto Che parla Che copre uno spettro Sì Umano Completamente umano Quella con Dave Patel Che è stupenda E poi c'è questa cosa Ricorrente della panchina Di questi personaggi Che si siedono Sulle panchine Come se la panchina Fosse un po' Un luogo di rivelazione Per se stessi E per la coppia Però almeno Trovi dal diciottenne All'ottantenne Che ha l'Alzheimer Che non riesce a ricordarsi L'amore della sua vita Il divorzio Quindi anagraficamente Parlando E ti aggiungo una cosa Secondo me questa serie Ha la bellezza Che è propria Dei cortometraggi Cioè essendo tutte puntate Tra loro distaccate Quindi che non hanno Un continuo Proprio con un cast diverso Sì il cast diverso Ma anche tema Completamente diverso Tutto diverso Black mirror Però sul tema Dell'amore Antologico 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 La cosa più bella E che prende Secondo me La peculiarità Chiave dei cortometraggi Cioè i cortometraggi Sono a mio parere L'arte della sospensione L'arte dell'impressione Cioè tu nei cortometraggi Non devi per forza Portare un arco narrativo A passare tutte le fasi E poi a chiudersi Tu devi lasciarmi Un'impressione Devi sospendere il tempo Dirmi una cosa In maniera sincera E poi smettere Questa serie In tutti i temi Che tratta Che sono tutti temi enormi Il disturbo bipolare O comunque la dinamica Della salute mentale In Anato E l'amore Il reiterarsi Dell'amore in Patel Il divorzio Tutti i grandi temi L'amore ai tempi del covid Nella puntata di Kitterington Che è stupenda No? Però nessuna di queste puntate Ha il bisogno Di didascalizzarsi Di portarsi avanti Di concludere Un arco narrativo Ogni puntata Ti lascia sinceramente La sua impressione Autentica Sì secondo me È proprio il concetto Del qui e ora Esatto Cioè Anato Inizia un percorso Con se stessa Ma non è che noi vediamo Alla fine Anato Che ha trovato Il senso della vita Ma ti dico Anche la puntata Quella con Non mi ricordo mai Il nome dell'attore Quello che fa Il prete in Flibeck Bravissimo lui Non mi viene Un attore inglese Bravissimo Che è Un attore Un personaggio Che è sul concetto Di adozione Per coppie omosessuali Che potrebbe essere Veramente poi Quando è uscita Comunque saranno passati Un po' di anni Sì è uscita nel 2019 Mi sembra Sì un po' di anni fa Topic Del topic Del topic Poteva essere La cosa più didascalica E banale del mondo Invece ti porta Un grado di complessità E di verità umana Che è impressionante Ma anche un grado Ma anche un grado di attenzione Costante Perché molto spesso Con le serie Secondo me L'unica cosa Che si perde È questa cosa qui Cioè sai che La storia comunque Ti viene raccontata bene E che hai tante puntate Per seguire la storia Mentre in Modern Love Come in queste puntate Durano Mi sembra 40 minuti 45 minuti Sì un'oretta scarsa Sai che poi la storia termina E che quindi tu devi Cercare di prendere Tutto quello che puoi Da quei pochi minuti Che hai a disposizione No? La differenza tra il film E la serie E Tra l'altro oggi Escono le mie puntate Di The Crown E io sono qui con voi E non le sto guardando Penso a quanto È importante per te Essere qui Grazie a tutti Capizzaglia Veramente Noi siamo onoratissimi E io vorrei portarvi Tre titoli Che ci mostrano Altri tre Ma quanti titoli Stiamo tirando Ma faccio una premessa Per quello che si diceva prima Che il tema Della salute mentale Ovviamente ha Delle dimensioni In cui si esplicitano Proprio casi Importanti Gravi E determinanti Ma anche tutta la componente Della psicologia positiva Quindi di dimensioni Di persone Che hanno fragilità psicologiche Comunque rilevanti Magari di un tasso di gravità Che non raggiunge lo psicotico Non raggiunge Ma che è bellissimo Che vengano raccontati bene Soprattutto rispetto A tematiche anche altre Mi spiego Mi viene in mente Uno sulla sessualità Che è shame Bello Se volete possiamo parlare Che toccano tre tematiche Declinate Quindi applicate Quindi non è il tema Non è il disturbo Nello specifico Ma è la dimensione Comunque di fragilità psicologica E patologica In tre contesti Ma te ne aggiungo un altro Simile secondo me È Beautiful Boy Raggruppabile Come Monster Come Monster Hai tirato fuori Veramente un film Incredibile Per me A parte che lei vinse L'Oscar Per quel personaggio E quanto sia stato folle Che una delle donne Esteticamente Considerate più belle Al mondo Assurdo Vince l'Oscar In un ruolo Dove è completamente Trasformata E secondo me Si deve partire da questo Cioè si deve partire dal fatto Che a parte quanto L'estetica Sia sempre relativa Ed è un po' un problema Nel mondo del cinema In realtà Quanto In Italia O comunque in Europa L'uso di prostetici Di invecchiare O di modificare Una persona Non sia ancora Sdoganato al cento per cento E tu pensi che Cioè sia positivo Cioè vorresti Ma guarda No in realtà No perché io Almeno nella mia Esperienza personale Molto spesso Ho trovato problemi Su questo Anche semplicemente Una cavolata Ma il colore Dei capelli rossi Si pensa ancora Che allora I tuoi genitori Devono avere i capelli rossi Altrimenti non è realista Quando Se ti faccio vedere I componenti Della mia famiglia Pensi che sia uno scherzo Mia sorella è olivastra Mora è riccia Mio fratello è biondo Quindi no Però A me piacerebbe molto Poter pensare Di interpretare Anche ruoli Che sono Diciamo In maniera Pubblica O generale Considerati Non adatti Magari alla mia Fisicità O alla fisicità Di qualcun altro E in quel film Lei c'è questo monologo Meraviglioso Famosissimo In cui lei Fa finta di andare Al tabacchi Pensando di essere Marilyn Monroe Lei dice Ma se c'è riuscita Se c'è riuscita lei Anch'io Mi sveglio Posso pensare Di essere La diva più grande Del mondo Chi me lo dice Che la mia estetica E la mia fisicità Impediscano Questo pensiero Ed è vero Perché lì Tu pensi tutto il tempo Ma È border Oppure Perché non potrebbe Pensarlo Cioè Chi te lo dice Che è sbagliato E che quindi È fuori dalla normalità Cioè Cos'è la normalità Di quel pensiero lì Perché io domani Non posso svegliarmi E pensare Di poter andare Sulla luna Poi tu Tecnicamente Mi vuoi dire Perché non sei laureato Perché non hai fatto questo Però in realtà Il sogno Non ha confini No E quindi anche Il sognare Semplicemente Di poter essere Per un giorno Una persona Che è completamente L'opposto Di quello che tu sei Nella tua vita È secondo me La più grande poesia Del svegliarsi La mattina E di concludere La propria giornata Certo Perché non sei neanche Obbligato a condividerlo Con il mondo Può essere una cosa tua Che rimane tua E quanto è strano In questi tempi Avere delle cose Che sono solo nostre Io sono molto gelosa Dei segreti Che ho con me stessa Perché mi sento sempre Quasi obbligata A dover condividere No? Siamo bombardati Dalla condivisione E invece Lei fa un monologo Interiore Con se stessa E dice Io posso E chi è il mondo Per dirmi Che non è così? Ma sai Esternamente Si ha un po' L'impressione Che gli attori Siano gli unici Che hanno veramente La possibilità Di fare questa cosa Cioè in realtà Di trasformarsi In qualcosa Che non si è E di andare fuori Invece tu mi stai dicendo Che è l'opposto Cioè che voi in realtà Siete obbligati A rappresentare Personaggi Che sono simili a voi No 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 Però sì No io Nella mia esperienza Di portare tanto di te stessa Capisco perfettamente Cioè capisco la struggle Diciamo Perché effettivamente Ti immagino Che i casting director Sì esatto Cioè il problema È quello che c'è prima Nel senso Che tu devi considerare Che a un provino Tu ci arrivi Perché un casting director Che quindi è Diciamo La mente parlante Del regista Di quel preciso film Chiama gli agenti E dice Ho bisogno Di questa tipologia Di attore Quindi già lì C'è uno screening Molto preciso Non ci sono ruoli aperti È raro Che ci sia un ruolo Dove guarda Mi serve Una ragazza Che vada Dai 18 ai 60 anni Com'è Va bene Perché giustamente Dovresti anche Paralettivamente Vedere il mondo intero E quindi molto spesso Secondo me Il problema è prima È anche sui colori Sulla fisicità E grazie al cielo Ormai Anche con tutto il discorso Del body shaming Che è ancora Estremamente presente Penso a Brandon Fraser Che effettivamente Tutto quel discorso lì Che ci fu Anche una mezza polemica Per il trucco Prostetico Che c'erano Ora non mi ricordo Se la polemica Mi sto facendo Come al solito Quella roba Del cambiare la memoria Quella di ripaglia Inizialmente No no ma è vero C'è stata su Brandon Fraser Cioè non mi ricordo Se la polemica Vabbè No però è bellissimo Il discorso che hai fatto Ludo Molto 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 Bello E penso E torno a una cosa Che tu stessa Hai detto Che soprattutto adesso In realtà Un certo cinema L'ha sempre fatto Però adesso Ha tanta più visibilità Un po' Perché il cinema Oggi ha altri modi Di arrivare Arriva a volte Anche veramente Come una clip tiktok Che sembrerà una cazzata Perché certo Perché in un certo modo Rovina magari La poeticità del cinema Ma comunque Impatta Comunque tocca Il cinema oggi Ci parla di noi E ci permette Di legittimarci Essere noi In una forma Veramente importante E ti parlo per esempio Collegandomi a quello che tu dici Su Monster Di Punch Drunk Love Perché Punch Drunk Love È un film Dove Adam Sandler Che è l'attore Comico Demenziale Buffo Tenero Del cinema americano Tra l'altro La nostra prima puntata È su Adam Sandler Perché lo amiamo E in quel film Non si risolve Non si cambia Non si migliora Prende a calci vetrate Arrabbiato E nevrotico Non si sa relazionale Ma semplicemente Accetta di potersi affidare A una persona Che lo ha saputo guardare Si lascia guardare Anche lì Quanto è bello Questo cinema Che finalmente Ha la capacità Il coraggio Narrativo Di non pensare Che i grandi stilemi I grandi archetipi Vendano per forza di più O piacciono per forza di più A noi piace una cosa Che è raccontata In modo sincero Può essere anche La storia Di come noi facciamo Un podcast O può essere la storia Di Marlon Brando Non è importante L'importante è L'autenticità Con cui tu la racconti L'autenticità Sì sì Finalmente ci stiamo Impossessando Di questa verità Io non so Se avete visto Malcom e Marie Con Zendaya E veramente Gira tutto Intorno al concetto Che l'autenticità È la chiave Delle cose Secondo me Va anche un po' Ridimensionato Il concetto Di mainstream Di commerciale Perché Mi viene da dirti Allora che In realtà Tutto è commerciale Quindi anche La differenza Tra Però è troppo Mainstream È troppo commerciale Non è autorale Quello che dicevi Tu di TikTok Che io Mi sono vecchia Non lo so usare Però è vero Nel senso L'importante è che Il messaggio arrivi E soprattutto Il cinema Ha il diritto E il dovere Di poter cambiare le cose Perché Dai film Del cinema Sono state fatte Leggi Se ci pensi No E quindi Se anche arriva Un pezzettino Di un minimo Di concetto Che una persona Ha la libertà Di interpretare Come vuole Chi siamo noi Per dire che Tu devi vedere Questo film E questa è l'ideologia Che devi avere Questo è il pensiero Unico Che il mio film Rappresenta Non è così Non è così Io ho girato a marzo L'opera prima Di Michela Giraud Che uscirà Nei prossimi mesi E mi interesserebbe Insomma Molto invitarvi Perché in realtà Secondo me Sarà Sarà un po' Un colpo di scena No Perché anche Non lo so Quello che io penso è Anche attraverso La commedia Si possono in realtà Raccontare Dei temi Drammatici In realtà Perché siamo diversi Io conosco persone Che li risolvono Con la risata Li risolvono Con la commedia Chi ha bisogno Di avere Il buio Questo paese È particolarmente fondato Sulla commedia Sia a livello politico Che poi a livello Certo Ma un caso bellissimo Quello che hai detto E mi è venuto in mente adesso Non so perché Non ci ho pensato Nei giorni scorsi È il caso Scafroglia Di Corrado Guzzanti Certo In cui è tutta Una grandissima seduta Psicoterapeutica Però ha giocata tutta Sul mood della commedia Cioè la storia Non c'è un dialogo Che è serio O propriamente detto Eppure è geniale Geniale È veramente geniale Ed è verissima questa cosa Che hai appena detto Quindi non c'è un modo Per forza unico Non c'è un canone Unilaterale Di fare le cose Esatto Io dico proprio Andare contro i canoni Perché Ma chi te l'ha detto? No? Verità Come i salmoni Che nuotano Conto correndo Nel fiume della vita Al proposito Cito una cosa che ha detto Sang Salmon Nella chat Io sono un grande fan Di Vortex Ma come è Sang Salmon? C'è Sang Salmon Nella chat Avete un sacco di amici oggi Abbiamo un sacco di amici oggi È bellissimo Vortex Di Gaspar Noè Con Dario Argento Che parla dell'invecchiamento Quasi tutto il film è in split screen Sono due schermi contemporanei In maniera Un tempo completamente narrativo Reale Ci sono Dario Argento E la moglie Che sono tutti e due Stanno tutti e due invecchiando E il film è incredibile C'è questa scena Della moglie Nel supermercato Che sono Dieci minuti di inquadratura Nella parte alta Di lei Che non riesce a uscire Nel supermercato Perché È demenza senile Non riesce a uscire Certo Gran film Vortex Grazie di averlo citato Davvero E ne è stato citato un altro Bello Anche Vicky Cristina Barcellona Di Woody Allen Se ci pensate Nel personaggio di Penelope Cruz Lì si parla anche Del poliamore Certo Tra l'altro In tempi non sospetti In tempi non sospetti Una coppia dichiaratamente aperta Sì 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 Molto figo E poi ce n'è un altro Che è stato citato Che è Mommy di Xavier Dolan È vero È vero Grande Gian Giulio Che l'hai citato Perché Mommy di Xavier Dolan Oltre ad essere un film Secondo me meraviglioso Dove succede Una delle cose più belle Del cinema di Dolan Che è il suo utilizzo Della musica pop Rirendendola iconica C'è la scena di Wonder Ma lo sapevo Beh però va detto Zì perché lui è riuscito A prendere Wonder World E gli Oasis Che è la roba Più ovvia della storia C'è un po' la canzone Da karaoke basic O da chitarra basic La sappiamo tutti La sappiamo tutti È troppo facile Lui prende una canzone Troppo facile E la rende La sua canzone iconica Sei un grande Già solo perché Hai fatto questa cosa Il cambio di formato All'epoca fu incredibile Cioè io mi ricordo Che facevo scuola di cinema Cioè studiavo cinema In quel periodo Ed ero fissato Cioè tutti i miei corti Dell'università Cambiavano Formati Sì mi ricordo Perché i personaggi Li spingevano Ed era una roba Perché appunto Lì ti fa vedere Come cambia Il modo di vedere le cose Grazie alla musica Che è un'opera d'arte Tra l'altro gli Oasis Sono comunque Parlano Certo grandioso Un botto di questo tema E secondo me Mommy Zio È un film incredibile Perché è molta Della cinematografia Di Dolan E c'è il tema Rapporto Figlio Diciamo uomo Di genere Originario E madre È onnipresente In tutti i film di Dolan Anche in Lawrence Enways Dove c'è un Il suo primo film Si chiama Ucciso mia madre Sì Jato et Mamère Anche in Lawrence Enways Dove per esempio C'è il racconto Di una transazione Comunque il tema Transizione Transizione C'è il racconto Meglio che ti corrego io Che non i commenti Dei professoroni C'è il racconto Di una transizione Comunque il rapporto Figlio madre È fortissimo Però Mommy Riesce A raccontarci qualcosa Forse di irraccontabile C'è una madre Che accetta Di non potercela fare Lei È folle Nessuno l'ha mai fatto Chi ha mai raccontato Di una madre Che fallisce Perché ovviamente Non è che fallisce Ma che accetta Di non potercela fare Lei Perché quel ragazzo Ha un disturbo Ingestibile Ingestibile Dal punto di vista Puramente materno Cioè è la messa L'impotenza raccontata Wow Ma che roba è Con un amore materno Che sembra quasi automatico Sì sì È così Guarda io Avete visto Made Con Margaret Qualley Su Netflix Molto bella Molto bella Io mi sono innamorata Di quella serie E anche lì Quanto l'essere madre Ragazza madre Ragazza giovane Schiaffata in una società In questo caso In America Con la non privatizzazione Della sanità pubblica Di quanto anche questo Sia importante Perché io mi rendo conto Che molto spesso Quando ho un confronto Anche Tu parlai prima su Instagram Giustamente mi vengono a dire Eh però Lo psicologo è una cosa da ricchi Perché fino a quando Continuerà a costare L'ira di Dio Un'ora Andare allo psicologo Io non ci posso andare Certo Ed è lo stesso discorso Per l'educazione sessuale Psicologica Nelle scuole Ma chi l'hai mai fatta Io all'epoca Un'ora di psicologia O di educazione sessuale È tutto privato Io lo devo pagare E io parlo da privilegiata Di potermi permettere Cure mediche Psicologiche Di potermi permettere Uno psicologo Una volta a settimana Ma Costa troppo Ancora Quindi non è vero Che è un bene di tutti Nonostante io lo consideri Un bene primario Ma è un po' come Il dentista Cioè nel senso che Sono quelle cose Che poi ci vai Una roba da borghesi E certo E beh ma La verità Ci vai quando hai un problema Quando hai una carie Però in realtà Bisognerebbe andarci sempre Certo Per fare un controllo Esattamente È come il discorso Della prevenzione Esatto Eh ma Quando ti ammali Sei obbligato Poi a farti curare No ma la prevenzione Invece È tutto ciò che c'è prima Ma Io Sono donna Se Andare dal ginecologo Mi costa 150 euro Una visita Ordinaria Che è un controllo Quindi con nulla È E la pillola Poi me ne costa Altri 22 euro E gli assorbenti Me ne costano Altri 30 Io in un mese Ho speso 400 euro Per Vivere In maniera Normale In una prevenzione normale Di una ragazza Di 27 anni Nel 2023 È un problema È un tema No hai ragione È un tema Non va bene Non va assolutamente bene E beh deve essere pubblico Con questo servizio Deve esserci un servizio Minimo pubblico Anche dal punto di vista Salute mentale Come c'è No no ma Ma c'è Ovviamente c'è Gestito in una maniera Uno psicologo Nelle scuole Andrebbe messo Assolutamente Andrebbe fatto educazione sessuale Devo dirti che dal punto di vista privato Per fortuna In tempi molto molto recenti Sono nate Qualche realtà Che ha cercato Di venire incontro a questo problema Ci stanno provando Potrebbero sponsorizzare questo podcast Potrebbero sponsorizzare questo podcast Però esistono Però esistono Colloqui gratuiti Possibilità telematiche Bravo che è importantissimo Perché la cosa veramente fondamentale Poi è trovare una persona Con cui tu empatizzi Perché Perché non è scontato Che non è scontato Tu puoi entrare nello studio Di un psicologo E spendere 100 euro Per un'ora E puoi essere la persona Più inadatta per te In assoluto Per un percorso psicologico E quindi Già quel discorso Signori Questa puntata Potrebbe durare ore È stata una bellissima puntata Però non può durarlo Grazie Ludovica Bizzaglia Ma grazie a voi Di essere stata qui con noi Grazie anche del tema Perché è stata una bellissima idea Stupendo K, non fare niente Cosa stai facendo? E per Non abbiamo raccontato La storia di Pascali e le mutande Sì, c'è tanto Però torneremo No, faccio una storia su Instagram La racconto lì Quando vuoi Però per quello che può valere Veramente In maniera totalmente sincera Spero che in questa puntata Un minimo sia arrivato Un tema importante Cioè che oggi Nessuno giudicherebbe Se noi fossimo liberi Di dire che avevamo bisogno Di aiuto Lo dico veramente In maniera sincera Cioè Va bene Veramente E' così E' proprio così Va bene Scrivete a Zino Nei DM Che sta aprendo Il suo studio Di psicoterapia Che costa 100 milioni Di dollari Io non potrei Mi denuncia L'ordine degli psicologi Non posso Grazie Ludovica A voi Grazie mille È stata veramente Una puntata ricca Di spunti Di film fichi Che vi consiglio Di guardare Quelli che non avete visto Vero Tu devi guardare Mother in Love Io devo guardare Ma lo guarderò Perché a me le serie antologiche Signori Grazie per essere con noi Grazie Viva la birra Viva la birra